Taormina è rinomata per le sue autentiche paste siciliane. La cassata è il dolce tradizionale siciliano fatto con ricotta, pan di spagna e frutta candita. Mia moglie Lisa ha detto che voleva una cassata e io le preparerò una cassata. Ok, un chilo e tre etti di formaggio cremoso. Deve cuocire a 160-180 gradi e poi sarà perfetto. Per fare la cassata bagna il pan di spagna con un po' di strega. Lo farcisce con due strati di crema dei cannoli, poi ci versa sopra della glassa di zucchero, stende della pasta di mandorle verde, la avvolge tutto intorno e rifinisce con frutta candita e decori di cioccolato. Mia moglie adorerà questo dolce, ma devo aggiungere un ultimo tocco finale. Ah, mi hai comprato una cassata! Non l'ho comprata, l'ho fatta! L'hai fatta tu! Mmm, è buona! Non lo bevi? Mi piacerebbe, ma non posso.